Monsignor Stagliano, se le dico Zibbaldone della Pop Theology, lei che cosa mi risponde? E' il titolo che ho dato alla mia ultima opera, che è un'opera monumentale, più di 1030 pagine, ed è una teologia dell'immaginazione per comunicare la sapienza della fede, come si dice nel sottotitolo. Zibbaldone, per chi lo sa, rimanda a questa opera di Giacomo Leopardi, è un'opera nella quale Giacomo Leopardi trascrive i pensieri anche filosofici, che poi risulteranno come il contesto di alcune operette maggiori, le opere morali, ma soprattutto anche le sue poesie. Pensiamo per esempio all'Infinito, l'Infinito di Leopardi, quella sempre caro mi fu quest'Ermocolle, e questa siepe che da tanta parte dell'Ultimo Orizzonte li guarda e sclude. Se si va a studiare lo Zibbaldone, lì si vede e si può avere una fonte autorevole per interpretare le opere delle Leopardi. Perché nel momento in cui Leopardi scrive l'Infinito, nello Zibbaldone scrive sulla morte, sola nel mondo eterna in cui si evolve ogni creata cosa, in te morte si posa nostra ignuda natura. Io percepiva intorno a me che tutto è nulla, io stesso solido nulla. Ebbene, allora si capisce che cos'è questa siepe, che da tanta parte dell'Ultimo Orizzonte il guarda e sclude. Ebbene, il titolo di quest'opera, Zibbaldone, vuole andare nella stessa direzione. Negli anni ho pubblicato diversi volumetti sulla Pop Theology, ma ho pubblicato anche delle opere importanti, con Rubettino, con l'LDC. Ebbene, queste opere pubblicate vanno, come dire, contestualizzate in questo percorso di riflessione che qui, nello Zibbaldone, è tracciato. Lei sta dicendo in realtà che questo libro rappresenta sicuramente un nuovo linguaggio per quanto riguarda la teologia. Beh, la Pop Theology è ormai iniziata da almeno un decennio e si è posta come disciplina, potremmo dire scientifica, della teologia collocabile nell'ottava specializzazione funzionale del metodo trascendentale di Berder Lonergan, Bernard Lonergan, che è dedicata alla comunicazione. Ecco, nel metodo trascendentale si dice che quest'ottava specializzazione della comunicazione è decisiva e importante, perché senza di questa le sette specializzazioni della teologia in cui dentro c'è la storia, la dottrina, la sistematica, non servono praticamente a nulla. Obiettivamente, se ci pensiamo, a che serve il lavorio teologico, anche l'indagine sul testo biblico, pensiamo all'esigesi oppure all'approfondimento della storia della Chiesa, se poi i risultati che noi acquisiamo da queste specializzazioni funzionali non riusciamo a comunicarle, a farle diventare teologia diffusa nel popolo a servizio di una nuova consapevolezza critica che il popolo necessita oggi perché ci troviamo in una cultura multietnica, multireligiosa, multiraziale e quindi abbiamo bisogno non soltanto di credere in Cristo ma abbiamo anche bisogno di un linguaggio nuovo per comunicare i contenuti della nostra fede nel mondo di oggi tanto più oggi che le società, in nome di un certo laicismo in nome anche di una certa falsa autonomia e autodeterminazione stanno provvedendo anche a livelli alti di esculturare il cattolicesimo esculturare vuol dire togliere il cattolicesimo, il cristianesimo dai dati culturali sensibili della vita di ogni giorno l'ultimo caso che è capitato per esempio lì in Francia agli inizi degli Olimpiadi dove si è voluta rappresentare nella forma dell'ultima cena di nostro Signore Gesù Cristo una sorta di avvento del mito greco di Dioniso per inneggiare all'amore libero, all'amore come ognuno lo vuole e così via dicendo e allora abbiamo bisogno di un'intelligenza della fede critica questa è la teologia diffusa nel popolo e soprattutto un linguaggio per i giovani che hanno bisogno di scoprire quella che è la nostra storia cristiana e quanto sia importante il cristianesimo beh assolutamente sì soprattutto per i giovani la pop theology un decennio fa nasce proprio per tentare di riagganciarci ai giovani che non sono più nelle chiese obiettivamente ancora c'è gente che come si dice si mette le banane davanti agli occhi e pensa e immagina che le parrocchie siano riempite di giovani i giovani non ci sono più nelle chiese sono negli stadi sono appresso alle loro star sono dentro i social abitano Spotify ascoltano musica continuamente per cui la pop theology in pop rimanda anche alla pop music ma indica diciamo un campo di significato molto più ampio in cui dentro ci mettiamo tutti i registri linguistici dell'immaginazione quindi anche per esempio la cinematografia l'arte pittorica d'altra parte i grandi artisti pensiamo che cosa ha fatto Giotto nella rappresentazione pittorica messa a servizio dell'evangelizzazione della catechizzazione del popolo quando il popolo non aveva la possibilità di accedere ecoculturalmente alla lingua latino e di essere acculturata nel catechismo ecco le immagini erano fondamentali la pop theology sfida anche la teologia come scienza a ripensarsi nel proprio linguaggio nella sua capacità di utilizzare eventualmente anche i registri linguistici dell'immaginazione per mediare a un livello anche profondo e alto il sapere della fede si tratta appunto del sapere della rivelazione di Dio in Cristo in Cristo noi veniamo a sapere non soltanto il volto santo di Dio che Dio è solo e sempre amore ma veniamo a sapere tutto ciò che interessa la vita degli esseri umani la convivenza civile il futuro dell'essere umano ecco perché questa opera che è monumentale raccoglie ventuno piccoli libri ed è dedicata a temi di grande rilievo sociale e culturale i temi della bioetica i temi per esempio dell'immigrazione i temi anche della politica c'è un libro intitolato Politicon che cosa ci dice sulla bioetica? beh la bioetica è una disciplina scientifica che è uno spazio interessante dove tanti saperi possono convergere sul tema della vita ecco anche la teologia è un sapere critico che ha da dire da dire qualcosa convergendo e cercando di essere resiliente rispetto a certi sviluppi del bios dove il bios è ridotto appunto a biochimica non ci si vede più niente dentro di profondo lo direi con un linguaggio pop alla battista e no e no non è questione di cellule se il bios dell'essere umano sono le cellule sono le molecole sono gli atomi e dentro queste cellule dentro queste molecole questi atomi non non si riesce più a riconoscere l'umanità questa sensibilità per il senso umano questa sensibilità che so per la giustizia per la bellezza per per l'amore no e allora qui c'è il riduzionismo che so delle neuroscienze che riducono anche gli eventi superiori dell'essere umano come il pensiero a a sinapsi neurali cioè abbiamo scoperto che so i neuroni specchio sappiamo che i neuroni specchio hanno a che fare con con la memoria con anche l'immedesimazione pensiamo che l'empatia sia l'organizzazione interna di questi collegamenti neurali insomma il cervello è la base biochimica della mente ma la mente è la mente umana e non è riducibile assolutamente al cervello quindi in realtà questo con questo libro lei rivoluziona quello che è il concetto anche di fede quello che deve essere il concetto della vita di come affrontare la vita beh più che rivoluzionare attraverso la pop theology noi rendiamo i dotti tutti quelli che ritengono di credere e soprattutto quelli che ritengono di non credere che la fede non è semplicemente un'adesione intellettuale a delle dottrine misteriose che non si capiscono con la propria ragione e questa è una vulgata banale che da 300 anni insistentemente è dentro la vita di tutti ma la fede è anzitutto essere abitati dallo Spirito Santo di Dio che è Dio amore e questa abitazione in un certo senso eccita eccita quelle corde tese dal creatore nel corpo umano che sono le corde dell'empatia allora la capacità di un essere umano di amare non è frutto della presenza dello Spirito Santo in noi è frutto del fatto che l'essere umano è stato creato secondo l'immagine e la somiglianza di Dio così cioè con una profonda capacità di empatizzare di immedesimarsi nel dolore e nella sofferenza degli altri chissà perché in giro questa stoffa umana è piuttosto come dire depressa è piuttosto mortificata ecco che l'azione dello Spirito Santo in noi e quindi la rivelazione cristiana ciò che veniamo a sapere con nostro Signore Gesù Cristo morto e risorto questa è la verità cristiana non è la dottrina sul Padre sul Figlio e sullo Spirito Santo è questa sapienza di vita che scaturisce perché incontro un evento incontro un fatto l'amore crocifisso di nostro Signore Gesù Cristo che fa capire a me ma non è una comprensione semplicemente intellettuale potremmo dire una comprensione carnale che io sono fatto d'amore sono pieno d'amore e quindi devo agire amando perciò ecco ci viene detto da Cristo guardate che tutto ciò che voi compite nella 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 vita riecheggia nell'eternità per cui quando tu dai da mangiare all'affamato da bere all'assetato vesti il nudo e vai a trovare il disperato diventi il buon samaritano per qualcuno qui è questo che resta nell'eternità la carità perché è perché resta nell'essere umano ciò che l'essere umano è sostanzialmente dall'eterno quando è immaginato in Gesù come partecipante sensibilità al dolore e alla sofferenza degli altri perciò un corpo che muore così pieno di luce della carità che ha realizzato in vita si presenta davanti a Dio entra nella luce del paradiso un corpo che invece fatto per amare e quindi per sviluppare questa partecipante solidarietà empatia immedesimazione al dolore e alla sofferenza degli altri invece si è egoisticamente autodeterminato in libertà non ha voluto che saperne di carità perché si è voluta godere godere la vita in faccia alla sofferenza degli altri e magari facendo pure soffrire gli altri è un corpo che perde progressivamente la sua luce creaturale ha respinto la rivelazione di Cristo e le movenze dello Spirito Santo si è battezzato e si presenta davanti alle porte del Padre Eterno totalmente oscurato ma nemmeno il Padre Eterno lo vede questo sarebbe l'inferno il fatto che il Padre Eterno ti cerca che non ti vede questo libro soprattutto quando si parla della mente umana e quindi dell'intelligenza è una risposta anche all'intelligenza artificiale ma sull'intelligenza artificiale è difficile dire che questo libro sia una risposta però ciò che c'è scritto in questo libro doterebbe il lettore di concetti di infrastrutture concettuali e di pensieri che lo abilitano criticamente apporsi in maniera libera di fronte all'intelligenza artificiale dell'android che dovrebbe diventare il futuro della specie umana una specie basata sul silicio che sostituirebbe la nostra specie umana basata sul carbonio perché tutto ciò che c'è scritto in questo libro convince dovrebbe convincere il rettore in libertà sempre e dotarlo della capacità critica di capire che l'intelligenza artificiale come ha detto Papa Francesco anzitutto non è intelligenza tanto meno è generativa per cui già equivocare utilizzando questi linguaggi questi termini significa incamminarsi dentro questo paradigma tecnocratico che sta anni sta pensando alla post human condition cioè una condizione post umana ad andare oltre l'umano fabbricando questa nuova razza ebbene la teologia dice nessuna razza umana può essere fabbricata prodotta perché perché la razza umana può essere solo generata infatti l'essere umano è stato creato nel generarsi eterno del figlio dal padre e quindi vuol dire che l'umanità trapassa e si trasmette soltanto per generazione e non per produzione che cosa è la carità intellettuale la carità intellettuale è un'espressione di matrice rosminiana c'era Antonio Rosmini questo grande filosofo che purtroppo è stato maimè dalla Chiesa Cattolica condannato con il post obitum e quindi messo da parte nella mediazione culturale del cattolicesimo nell'ottocento ed è stato un grande disastro perché la levatura intellettuale e la grandezza anche di produzione filosofica e teologica del Rosmini è guaglia a quella di un Agostino è guaglia a quella di un San Tommaso cioè quello che Agostino fece con il neoplatonismo quello che Tommaso fece con l'aristotelismo nella modernità dopo Kant è bene sottolinearlo ecco dopo Kant in pieno illuminismo compiuto Rosmini lo fa con l'idealismo tedesco e diversamente da Agostino e da Tommaso che assumono nel loro progetto teoretico delle filosofie disponibili abbiamo detto Agostino il platonismo e Tommaso l'aristotelismo Rosmini si inventa lui una filosofia cioè rifonda la filosofia e crea un sistema filosofico suo che è critico nei confronti dell'idealismo che da Kant in poi si è originato e con questo suo sistema filosofico che lui chiama sistema della verità elabora una teologia all'altezza di mediare culturalmente il Vangelo ed è lui che attingendo al mistero trinitario che come si sa è la dottrina trinitaria del Dio uno ma in tre persone uguale e distinte quindi del Dio che è comunione eterna che è solo amore attingendo al mistero trinitario elabora una teosofia elabora una metafisica che si può chiamare oggi ontologia non solo triadica ma trinitaria che è l'ontologia delle tre forme dell'essere ideale reale ideale morale ideale ideale reale ideale morale ebbene in questa visione tutto è triniformato e dunque anche la carità la carità non è soltanto la carità reale cioè la carità reale è dar da mangiare ad affamato dar da bene all'assetato ma c'è una carità anche ideale cioè è la stessa carità di cui abbiamo più bisogno oggi più del pane che tutto sommato in occidente in qualche misura abbiamo ed è la carità ideale dell'illuminazione della luce dell'intelligenza è una sorta di nuovo illuminismo cristiano quello che propone Rosmini che voleva addirittura costituire una società degli amici che si opponesse criticamente all'enciclopedia francese di un Diderot di un D'Alembert di un Lambert di un Voltaire quindi una carità intellettuale che sappia illuminare le coscienze e indirizzarle alla verità vera alla verità reale e poi una carità morale la carità morale perché obiettivamente già Aristotele diceva che va al più un gocciolo di vita morale che è un mare di scienza cioè che uno è uno scienziato che uno sa tutto ha nel suo cervello tutte le informazioni sul mondo in evoluzione oppure sulla meccanica quantistica e poi tu lo vedi che tratta male le persone che non ha occhi per il dolore e la sofferenza di altri che non si commuove per nulla rispetto a questi migranti che vengono sulle nostre coste e rischiano di morire in mare oppure appunto che vive una vita scialacquata nell'assismo delle piacevolezze dell'ipermercato e insomma uno può anche essere un astro di scienza però è un povero uomo no? Perché? Perché c'è l'essere morale e l'essere morale risponde sempre alla domanda come deve essere l'amore per essere come deve come deve essere e l'amore deve essere per me che sono un cristiano e un teologo esattamente papale papale come ce l'ha mostrato Gesù Cristo perché non c'è vero amore se non in un legame di bene che spinge la mia vita fino a morire per l'altro chi le forme dell'amore che non portino almeno diciamo i crismi e le tracce di questo amore cristiano non so se davvero si può chiamare amore ma questa cosa qua per esempio l'ha detto anche Angelina Mango nella canzone di Sanremo la noia che tutti cantano quando parla di questo dress code della corona di spine che gli cambia sostanzialmente la festa la corona di spine è una sola quella che ha indossato nostro Signore Gesù Cristo ed è precisamente questo soffrire che è un soffrire donato che è un soffrire nell'amore che rende i miei giorni più umani dice Angelina Manco perché prima era soltanto tempi usati e abusati dentro logiche dell'ipermercato e business e fai business ed era una noia mortale anzi si dice lì chiudo pure gli occhi per fare il contratto e quindi non mi interessa della mia onestà interiore della mia moralità dell'eventuale mercificazione del mio corpo l'importante l'importante è che faccio soldi e invece dice no questa è noia mortale quindi è alienazione pura è estraneazione della vita allora io che faccio io cambio la festa ma per cambiare la festa devo cambiare anche il vestito della festa il dress code della mia festa sarà la corona di spine cioè capisco che questa vita va vissuta nell'amore e se l'amore esige la sofferenza di un sacrificio io lo percorro tutta questa via crucis me la salgo tutta per raggiungere l'obiettivo che mi salva la vita l'obiettivo che mi salva la vita è amare sul serio una teologia dell'immaginazione o quindi una nuova teologia che attraverso anche la musica permette di cogliere il significato della vita della fede e soprattutto quello che deve essere il nostro percorso umano ma sicuramente sì perché la musica come si diceva è l'ambiente ormai in cui si respira l'ambiente vitale dei giovani di oggi ascoltano moltissima musica probabilmente sanno bene anche le parole dei testi dei cantanti li assimilano ma forse forse non li pensano adeguatamente e allora la pop theology come progetto comunicativo entra in questo campo chiamiamolo semantico cioè campo di significati umani ed entra ovviamente con un atteggiamento critico perché la teologia è forma critica del sapere della fede si impegna a mostrare come il sapere della fede cioè il sapere della rivelazione di Dio in Cristo possa dare gettare nuova luce per una nuova comprensione di ciò che anche all'interno delle canzonette si fa spazio nell'interpretazione dell'umano perché non è vero che una canzonetta non dica nulla le canzonette quando sono ben ovviamente non tutte ma quando sono ben pensate hanno a che fare con i grandi temi della politica odierna hanno a che fare soprattutto con la ricerca del senso umano anche quella canzone di Vaskoros che dice voglio cercare un senso a questa vita anche se questa vita un senso non ce l'ha voglio cercare un senso a questa storia anche se questa storia un senso non ce l'ha e in un certo senso interagisce nel significato di questa canzone che tutti cantano perché è piacevole interagisce e dice ma dobbiamo definitivamente lasciarci cadere le braccia in questa società dove il nichilismo è compiuto i giovani crescono senza scopo senza senso e magari compiono azioni davvero barbare che so prendono la pistola e uccidono perché l'hai fatto così senza oppure giocano alla sex a roulette giocano alla sex a roulette 14 anni 15 anni e noi non ci domandiamo come è possibile che dei ragazzini trovino senso in questa barbaria in questa barbaria umana ecco è un tentativo di di riconnettersi con il mondo giovanile ovviamente per annunciare la visione del mondo e della vita che è di Gesù Cristo per cui vogliamo mostrare attraverso la pop theology entrando in dialogo critico con loro che l'umanità bella e buona di Gesù è l'unica vera umanità che salva e che non c'è obiettivamente umanità in certi modelli di influencer che milioni di giovani seguono quindi entriamo in un dibattito pubblico cioè è umanità questa di una che indossa un vestito e guadagna 100.000 euro cioè lo dico è umanità e l'ipermercato ha costruito queste forme cosiddette umane seguite dai più ma la domanda è critica usiamo l'intelligenza usiamo la testa si tratta di umanità o si tratta di forme di barbarie io la ringrazio essere venuta nei nostri studi perché credo che questo è un libro che può aiutare tutti a riflettere attraverso la pop teologi quello che è il significato della nostra cristianità non è soltanto il pensare e credere a quelli che sono le parole del Vangelo eccetera attualizzare tutto questo significa dare a tutti un'opportunità di riscoprire e di riflettere ecco di riflettere criticamente non ci si deve spaventare della voluminosità del testo perché giustamente dici ma ma chi vuoi che prenda questo testo così voluminoso e obiettivamente c'è da tempo la bignamizzazione no dei testi anche della filosofia dappertutto però come sottolineavamo prima si tratta di uno zibaldone e quindi è un ammasso di pensieri allora si può sfogliarlo si può andare all'indice e vedere quali sono i pensieri che ti interessano oggi e andare alla pagina e approfondire quei pensieri non necessariamente bisogna leggerlo dall'inizio alla fine ecco a Grazie a tutti.